Imolaoggi.it, il portale di informazione diretto da Armando Manocchia. Come vivere in questo paese senza morire di rabbia. Follow, follow the sun, in which way the wind blows, when this day is done. Buonasera, buonasera, ben trovati. Questa è Imolaoggi, è Imolaoggi TV. Dopo 25 anni online, dal 1997, Imolaoggi sbarca sulla web tv. E ho il piacere di avere ospite per questa bellissima puntata, Tommaso Minniti. Chi è Tommaso Minniti? Tommaso Minniti è un attore, un regista, in questo caso soprattutto un regista, perché lo intervistiamo in quanto ha realizzato questo bellissimo documentario, questo film, questo docufilm, come si dice, su Aldo Moro. è un, diciamolo pure, anche abbastanza controverso, anche abbastanza ostacolato, che in qualche modo, adesso poi ci spiegherà lui, ha dovuto in qualche modo, come dire, presentarlo in maniera clandestina, diciamo così. Sì, ecco. Allora, Tommaso, Tommaso, buonasera. Ciao Armando, grazie ancora per avermi invitato. Buonasera a te e a chiunque che sia. Questa è la puntata numero zero di Imolaoggi, è la puntata numero zero sulla web tv di Imolaoggi. Bene, sono molto contento. Grazie, ringrazio la regia, ringrazio assolutamente Francesco, che gestisce questa situazione, perché io ho risaputo che sono abbastanza imbranato, però, insomma, va bene, nessuno è perfetto. E allora, siamo qui per darvi in qualche modo le informazioni, come dire, diverse dal mainstream. Oggi, anche oggi, l'anniversario dell'assassinio, perché tale è di Aldo Moro, ovviamente, il mainstream lo racconta ancora come, quanti anni fa, quanti anni sono passati, Tommaso? 44. 44. Il 9 maggio 1978. Bene, oggi è il 9 maggio 2022, 9 maggio 1978, Aldo Moro è stato assassinato. Loro dicono da, mentre invece, questo documentario, che è circostanziato, ovviamente, da, come dire, da documenti inconfutabili, che ha curato il giornalista, dillo pure, dillo pure, Tommaso? Sì, beh, l'inchiesta è del giornalista Paolo Cucchiarelli, e è naturalmente la base di tutto il nostro lavoro. Certo, bravissimo Tommaso Cucchiarelli. Allora, la domanda che ti faccio per iniziare questa puntata è questa. I giovani oggi, i ragazzi di oggi, che cosa sanno di questo assassino, di questa strage? Intendo dire, devono comunque assorbire, devono comunque metabolizzare la solita narrazione che ci hanno raccontato noi per 44 anni? Dunque, Armando, i giovani nulla sanno, nulla sospettano, come forse è normale che sia. Io ricordo quando ero giovane io, d'altronde è anche abbastanza inutile fare la retorica dei giovani che non hanno la memoria storica. Piuttosto bisognerebbe piuttosto lasciarli stare i giovani, piuttosto che naturalmente impulcar loro delle robe che non stanno più nel cielo né in terra. La memoria storica è una cosa molto complessa, complicata, che si sedimenta non solo attraverso l'informazione, anzi direi proprio non attraverso l'informazione, quanto piuttosto il lasciare che l'intuizione abbia il suo svolgimento nel corso della vita di un giovane e la capacità di apprendere secondo criteri nuovi e antichissimi. Questa è una capacità che i giovani possono ovviamente sviluppare durante gli anni. Quindi quel che si fa nella nostra orribile malandata scuola è quello di dare qualche informazione, qualche nozione e quindi anche sul caso Moro per esempio noi apriamo il documentario proprio intervistando dei ragazzi di Bari e uno di questi mi dice ma noi abbiamo studiato Napoleone ma questo Moro non c'è molto familiare. Esattamente così si tratta Moro e Napoleone come semplici, come una cronologia di informazioni una via l'altra e quindi questo è del tutto inutile. Noi abbiamo provato e io personalmente essendo un artista quindi non essendo né un pedagogo né un giornalista né un analista politico e io me ne guardi a imitare uno di questi, io essendo un artista ho provato a dare a questa storia fortemente appoggiata su un'inchiesta direi incontrovertibile, il giornalista Paolo Cucchiarelli ho provato a dare un andamento molto umano, di emozione molto profonda perché penso che se i giovani hanno una speranza oggi è quella di attraverso l'emozione, attraverso l'intuizione che è propria dei giovani non di noi vecchi o adulti, ma attraverso l'intuizione e l'emozione aprire una stradicella nuova che può portare ora a capire la storia dell'Italia. Tommaso, secondo me siccome io questo film l'ho visto e l'ho rivisto e ti confesso che ancora non ho capito perché è stato ucciso, non chi l'ha ucciso ma perché è stato ucciso, ma a parte questo ce lo dirai dopo, la cosa che ti volevo domandare è questo, intanto questo film è per dare un senso a questa storia, ma a proposito di dare un senso a questa storia non avete tentato, avete tentato in qualche modo di fare un approccio con la scuola per far vedere questo film, documento, questo documentario ai ragazzi per cercare di in qualche modo di spiegare che, come dire, che le cose non stanno come le devono fare. I tentativi in questi anni, tu capisci bene in questi due anni, il film è uscito l'anno scorso, quindi in questi due anni i tentativi sono o da non fare perché se nella scuola bisogna entrare con determinate regole forse è meglio proprio non entrare perché non esserci è già di per sé un segno, come non essere entrati alle poste era già di per sé un segno, adesso che probabilmente magari le regole, le maglie di queste regole assurde, pazzesche di questi due ultimi anni si potrebbero aprire, forse potrebbe essere il caso, tu pensa che probabilmente neppure gli allievi che hanno prestato la loro immagine per la scena finale, che secondo me è la scena clou del film, probabilmente ancora non hanno visto il film. Questo per me è un enorme dispiacere, ma so anche che oggi tutto ciò che è istituzione va probabilmente ridiscusso dal basso, quindi dal sicuro essere umano, compresa la scuola. Tommaso, approfitto a proposito di questo perché tu possa dire in qualche modo, al di là della promozione insomma, al di là della propaganda, al di là della pubblicità, com'è possibile vedere questo docufilm? Ah beh, guarda, dunque noi abbiamo tentato ovviamente la strada inizialmente delle case di distribuzione, le quali ci hanno detto apertamente, se volete qualche spiraglio dovete mettere il vostro lavoro in un cassetto e poi ci pensiamo noi. Ovviamente noi abbiamo aperto quel cassettino, ci siamo ripresi il nostro film e siamo andati in un sito web, molto semplice, www.noneuncasomoro.com, dove se volete potete noleggiare il film, acquistare la visione oppure, io lo consiglio sempre, acquistare questa chiavetta USB che si apre così perché se no mi dicono come diavolo si apre questa carta di credito, questa non è una carta di credito, ma è un oggetto. È la stessa domanda che ti ho fatto io quando me l'hai mandata. Ce lo siamo inventati perché molti ci dicevano noi vogliamo qualcosa di solido da tenere in casa, in effetti hanno ragione perché con l'online tu lo sai bene. Tommaso, cosa ne dici? Facciamo vedere un piccolo contributo, non vogliamo invadere troppo, scoprire troppe cose, ma un contributo, facciamolo vedere. Direi di sì. Quella che stiamo raccontando è tutta un'altra storia. L'ex presidente del consiglio Aldo Moro fu inciso perché si opponeva alle politiche pianificate dal Bilderberg per il suo paese. O lei interrompe la politica intraprese in Italia o pagherà un prezzo personale molto alto. L'Italia e l'Europa di oggi non sono ridotte così come effetto collaterale della morte di Aldo Moro, ma la morte di Moro serviva specificatamente a questo scopo. E' questo l'obiettivo sul quale le Brigade Rosse si muovono al momento in cui avviene il rabbimento. Questa forza dove la vogliamo collocare? Oltreoceano? Beh, l'oceano c'è di destra e c'è di sinistra. Ma sta oltreoceano? Sta oltreoceano. Le BR hanno svolto un ruolo secondario di mascheratura dell'operazione. Il ruolo principale è stato svolto da un commando venuto dall'estero e coperto dai servizi segreti. Il presidente della DC sapeva dove era detenuto, ma anche tanti altri sapevano. Vi è un elemento indicibile, la scoperta del prigioniero e l'impossibilità di salvarlo. Giovanni, il figlio di Aldo Moro, mi confermò di aver saputo direttamente da Nicola Lettieri, il sottosegretario che seguiva le indagini, che il padre e i suoi carcerieri erano stati individuati a palo laziale in una villa sul litorale a nord della capitale. Entra in gioco, al di là di ogni considerazione umanitaria che pure non si può ignorare, la ragione di Stato, soprattutto questa ragione di Stato, nel caso mio significa che io mi trovo sotto un dominio pieno ed incontrollato, sottoposto ad un processo popolare che può essere opportunamente graduato, che sono in questo Stato avendo tutte le conoscenze e sensibilità che derivano dalla lunga esperienza, con il rischio di essere chiamato o indotto a parlare in maniera che potrebbe essere sgradevole e pericolosa in determinate situazioni. C'è il cerchio di chi lo tiene rapito e c'è il cerchio di chi, ecco, rappresenta una sorta di cupola strategica. La frase che ricordo distintamente è «Muoro vivo non serve più a nessuno». Cossiga piangeva mentre Andreotte pronunciava questa frase. Noi sapevamo quello che io prima chiamavo la cupola strategica, di essere un paese la cui struttura dei servizi era una struttura sotto sorveglianza, sotto tutela. E' un film ovviamente da vedere. Lo consiglio davvero a tutti, specialmente ai giovani, perché anche in questo caso ci fa capire quanto questi signori che in qualche modo ci comandano, perché è così, ci raccontano le menzogne. Ecco, Tommaso, con i fiumi di inchiostro che sono stati versati per scrivere libri e articoli su questa bruttissima vicenda del nostro paese, che ha segnato proprio la vita del nostro paese, e c'era bisogno di fare questo film? Beh, dunque innanzitutto evidentemente ho avuto bisogno io di fare il film, quindi se ho avuto bisogno io di fare il film io intuisco che hanno bisogno di questo film i bambini dai cinque anni e gli adulti fino ai 99 anni. Ovvero, penso che questo film, che io ho chiamato film, non è un semplice documentario, veramente tiri una linea di demarcazione fra tutta l'immondizia che si è scritta e che si è raccontata, ma anche in buona fede probabilmente, cioè in buona fede perché? Perché avendo lo Stato messo l'asticella oltre la quale non era possibile dire, raccontare, fare storia, evidentemente tutto il mondo, che sia giornalistico, che sia intellettuale, accademico, ma anche politico, si è attenuto a questa asticella. Noi, e io devo dire grazie ovviamente sempre di più a Paolo Cucchiarelli, io sono stato messo in contatto con Paolo attraverso Maria Fida Moro, la quale mi dice se tu non leggi queste due opere che sono i due libri di Paolo, Morte di un presidente e L'ultima notte di Aldomoro, tu non potrai capire cosa realmente è stato progettato e realizzato in quei 55 giorni di rapimento di Aldomoro. Io leggo questi due libri di Paolo, lo contatto immediatamente, ci vediamo sotto la lapide di Aldomoro in via Caetani a Roma e lì semplicemente con poche parole decidiamo che era arrivato il momento di raccontare tutto quello che avevamo capito, lui con un'inchiesta decennale, io con le mie strade, i miei percorsi e quindi abbiamo semplicemente spostato l'asticella, ecco perché il mondo del giornalismo, la politica, tutti fanno finta che questo docufilm non sia uscito e ci credo e sono anche contento di questo. Perché è necessario? Beh perché io credo che oramai siamo arrivati a un punto di malattia sull'uomo che se non facciamo macchina indietro al più presto possibile avremo molti problemi e rischiamo di finire veramente male. Questa umanità in questo nostro tempo che ci è dato da vivere e quindi non ne possiamo vivere un altro è affetta da quello che oggi per fortuna molti analisti chiamano dissonanza cognitiva, noi ne parlavamo già nel 2015-16, che è una sorta di effetto paralisi che sta toccando agli individui e che sta toccando ai popoli, al popolo. Io ti dico perché, naturalmente ti ripeto, non sono un giornalista, non sono un analista politico, però proprio perché sono un artista mi permetto di dire cose che forse gli altri non dicono. L'effetto paralisi è dovuto sostanzialmente a questo fatto, cioè mentre in precedenza il popolo, così come l'individuo, ha creduto per anni e per decenni nella cosiddetta democrazia, nello stato di diritto e quindi anche inconsciamente pretendeva dallo stato di essere salvato, di essere soccorso, di essere sfamato, oggi noi dentro di noi abbiamo capito chiaramente che lo stato non può più fare questo e non ce lo garantirà più. Noi inconsciamente c'è un inconscio che è l'inconscio collettivo che sa perfettamente che lo stato non ci salverà più e non è messo lì per salvarci. Per cui mentre una volta il popolo e l'inconscio collettivo chiedeva allo stato, al leviatano, salvaci, oggi la cosa curiosa è incredibile che in questi due anni ho ravvisato in modo palese, l'inconscio collettivo sta chiedendo al leviatano divorami purché io non me ne accorga, che è una cosa suicidiaria e quindi noi dobbiamo in qualche modo fermare questo, ma come farlo? Io me lo sono chiesto tante volte, visto che il livello istituzionale oramai è già preso, il livello intellettuale è già cooptato, venduto, il livello politico, sociale e anche collettivo è già corrotto, l'unico ente, soggetto da cui si può ricominciare è l'uomo, è l'individuo, possibilmente giovane, possibilmente giovanissimo e l'unico modo per arrivare all'individuo, possibilmente giovane e incorrotto, è probabilmente un'opera che non solo con l'inchiesta di Paolo parla alla testa, ma con una forse certa mia abilità, con le musiche meravigliose di Johannes Wittler, entra in orinda al cuore dell'individuo, per cui noi abbiamo trasformato questa inchiesta giornalistica potentissima in una storia umana potentissima che allude potentemente all'oggi, non è un ricamo storiografico voglio dire, allude potentemente all'oggi e probabilmente dà una strada ai giovani, ai grandi, agli adulti che sono padri e madri per capire dove ci vorrebbero portare e dove sarebbe forse più utile andare a finire invece. Tommaso permettimi, mandiamo un altro contributo? Dopo gli spari lo Stato non è più davanti alla canna dell'arma, ma dietro e chiamerà il suo crimine un caso, ma così non è. Mi ricordo perfettamente che il Santo Padre un giorno, in uno di questi incontri, gli domandò ma io voglio avere una prova che lui è vivo, che non ha avuto maltrattamenti, che non è ferito. E' pronto? Scatto. Beatissimo Padre, nella difficilissima situazione nella quale mi trovo e memore della paterna benevolenza che la santità vostra mi ha tante volte dimostrato, arredisco rivolgermi alla santità vostra nella speranza che voglia favorire nel modo più opportuno almeno l'avvio di quel processo di scambio di prigionieri politici dal quale potrebbero derivare riflessi positivi per me e la mia disgraziata famiglia. C'è salsedire sul colletto del Presidente Moro, c'è sabbia sulla giacca, sul cappotto, sul risvolto dei pantaloni, sotto le scarpe, dentro i pneumatici della R4, dentro la R4, sui parafanghi. La sabbia è ovunque. I periti accerteranno che è sabbia che proviene da un'area tra focene e fregene. Mio carissimo Luca, ora il nonno è un po' lontano, ma non tanto che non ti stringa idealmente al cuore e ti consideri la cosa più preziosa che la vita gli abbia donato e poi miseramente tolto. Non era nulla che potesse essere deciso dall'area brigatista. Le decisioni erano avvenute ed erano state poi eseguite altrove, a mio avviso. avviene tutto un processo che porta, o dovrebbe portare, alla riconsegna, in quel momento avviene un intervento tangenziale e questo intervento tangenziale uccide. E lui capì, mi disse a me, oh Dio, vedendo questa fotografia capisco che l'ha ucciso. perché era uno che lasciava la sua firma e si vantava di questo. Qualche volta quando si dice il potere, ecco, avevamo il senso che il potere non l'avevamo, perché se l'avessimo avuto davvero, avremmo davvero trovato il modo di liberare Aldo Moro. È una strategia di manipolazione. Si crea un problema per causare una certa reazione da parte del pubblico, con lo scopo che sia da lui il mandante delle misure che si desiderano far accettare. Onorevoli deputati, cittadini, uomini. Qui entriamo in studio. Tommaso, allora mi ero preparato delle domande, qui adesso questa qui non me la ricordavo, la leggo. Cosa resta oggi da fare per colmare il vuoto politico, culturale, antropologico che quella censura ha, quella e questa ha determinato e continua a determinare in questo paese? Ma che cosa resta da fare? Dunque innanzitutto forse seguire la strada che ha tracciato per tutti noi Aldo Moro. Il 9 maggio è una data storica, a differenza di altre date, noi non ci ricorderemo mai per esempio quando è morto Andreotti, quando è morto Zaccagnini, ma fino a quando è morto Pettini, quando è morto Cossiga, quando è morto non so chi. non ce lo potremo mai ricordare, non ce lo ricorderemo e forse perché non è utile al tempo d'oggi ricordarsi queste date. Quella del 9 maggio è la data di un martirio e quindi se un martirio che è un'esperienza umana estrema che fa sì che per seguire una strada di verità noi mettiamo in gioco tutto compresa la nostra vita e Aldo Moro ha fatto questo perché noi dalle testimonianze che riportiamo e anche quelle che io ho sentito con le mie stesse orecchie. Aldo Moro viene avvisato fino al giorno prima di quello che potrà succedergli eppure va avanti. Quindi l'esempio che ci resta da dare a chiunque guarderà il film ma non c'è bisogno neanche di parlarne perché chiunque guarderà il film alla fine con le lacrime agli occhi probabilmente sentirà da solo qual è stato il percorso di Moro che è stato semplicemente un percorso di verità e quindi con una valenza spirituale e direi cristica altissima e quindi non ci resta che prendere questo come esempio nelle nostre vite perché oggi diciamo la divisione tra vero e falso è una divisione epocale siamo invitati continuamente a seguire il falso a compiacersi a compiacerci con ambizioni e traguardi ad asseverare il falso mentre invece bastano esempi clamorosi e importantissimi come questi per tracciare una linea diversa sulle nostre vite. Io dico Aldo Moro nell'ultimo intervento che abbiamo visto nell'ultimo estratto è proprio la morte la seconda puntata è molto concentrata sulla morte di Moro perché a differenza di quello che hanno sempre raccontato in 40 anni Aldo Moro non muore con quella dinamica quindi noi mostriamo con la fiction ricostruiamo la vera dinamica perché la ricostruiamo? Primo perché è un conno d'ombra sulla storia dell'Italia quindi tutte le parti buie della storia dell'Italia in quell'anno noi le mettiamo in fiction di modo che la gente le abbia impresse perché sono 40 anni che mandano film diciamo in cui si racconta che un gruppo di ragazzotti fa giustizia in fondo di un politico che ne aveva fatte anche di sporche in una sorta di esecuzione come finale di un processo popolare in realtà tutto questo non è vero tutto questo è menzogna Moro in fondo non era altro che l'ultimo filtro rimasto per far sì che le istanze popolari potessero arrivare al tavolo di uno stato oggi questo filtro è completamente scomparso perché tutti i politici hanno preso una bella lezione come a dire chiunque tenda a fare politica vera verrà spazzato via quindi i nostri politici oggi si guardano molto bene dal fare politica vera Tommaso il nostro tempo sta per concludersi e volevo soltanto domandare a beneficio dei chi ci segue il prezzo per vedere questo documentario guarda i prezzi sono tutti prezzi perché noi cerchiamo di far sì che già con 4 euro e 50 tu te lo possa guardare nel giallo dopodiché te lo puoi acquistare ti puoi acquistare la visione questa chiavetta ovviamente che a noi costa qualcosina costerà un pochetto di più poi ci sono le spedizioni noi cerchiamo di tenere anche i prezzi delle spedizioni molto basse anche se i clienti che spedizioni non ci aiutano devo dire non ci aiutano il mio consiglio è di avere questo film perché chi di solito lo noleggia semplicemente poi mi chiama e mi dice io vorrei rivederlo altre volte è chiaramente un film a mille foglie cioè tu guardi mangi il primo strato e dovrai mangiare il secondo il terzo il quarto il quinto l'amaro calice va bevuto diciamo fino in fondo allora Tommaso io ti ringrazio perché mi hai dato questo assist e parlato provocatoriamente di costo in realtà il costo è non sapere che cosa viene detto e fatto vedere attraverso questo film quello sì è davvero un costo perché sinceramente il tutto ha il prezzo inferiore di andare al cinema a vedere le solite ragianate io ringrazio Tommaso Minniti per questa per questa per questo spazio per questa intervista grazie a Pia Ramondo ci ha permesso in qualche modo di ricordare questo che per me era stato un grande statista grazie alla prossima puntata buona serata a tutti imolaoggi.it il portale di informazione diretto da Armando Manocchio come vivere in questo paese senza morire di rabbia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti